Allora, come al solito ci ripresentiamo, se ci fosse qualcuno, qualche nuovo partecipante, siamo ormai giunti al settimo appuntamento di questo corso che ha abbracciato il tema del green marketing e questa sera lo faremo su un aspetto al quale tengo molto, un aspetto di cause related che si associa ad una certificazione molto importante e molto accreditata sullo scenario europeo e nello specifico andremo a parlare di Ecolabel. La precedente lezione eravamo rimasti con la definizione di Life Cycle Assessment che è una metodologia analitica e sistemica che vale dall'impronta ambientale di un prodotto, di un servizio lungo tutto il suo ciclo di vita. Il calcolo quindi è un calcolo piuttosto complesso che riguarda appunto l'analisi dell'impatto ambientale del prodotto rilasciando dati ed evidenze che riguardano l'impatto ambientale associato a tutto il ciclo di vita. Nella precedente lezione ci siamo focalizzati anche come questo si riversi su uno strumento che riguarda anche la progettazione quindi il design thinking del Life Cycle appunto del prodotto che tende sempre più ad avere come scenario la progettazione che mira dalla culla alla culla quindi da tutto ciò che riguarda l'analisi preliminare di progettazione fino allo smaltimento del prodotto. Oggi siamo qui per parlare di come certificare appunto questo Life Cycle e quindi come certificare l'impatto ambientale di prodotto e nello specifico lo faremo prima approcciando a una teoria che ci permette di analizzare cosa si intende per etichettatura ambientale che sono disciplinate secondo le ISO 14.020 e si distinguono in tre categorie la tipo 1, la tipo 2 e la tipo 3. Le colabel vi anticipo che appartiene appartiene alla tipo 1 e appartiene alle etichette ecologiche che vengono rilasciate su base volontaria e si basano su un sistema di multicriterio ovvero che considera quello che abbiamo visto nella lezione precedente l'intero ciclo di vita del prodotto, il cosiddetto Life Cycle l'assessment. Sono sottoposte a una validazione da parte di un organo esterno e quindi nello specifico poi vedremo come si impronta questo ITER. Poi abbiamo le etichette di tipo 2 che sono etichette ecologiche che riportano delle autorichiarazioni ambientali da parte dei prodotti senza che vi sia l'intervento di un organismo indipendente di certificazione e tra queste rientrano le parole ad esempio reciclabile, compostabile e infine abbiamo le etichettature di tipo 3 che sono etichettature ecologiche che riportano dichiarazioni ambientali basate su parametri stabiliti e in questo macro aspetto rientrano le dichiarazioni ambientali di prodotto e in particolare in modo sono documenti nei quali si comunicano le informazioni oggettive e confrontabili relative alle prestazioni ambientali di un prodotto. Su queste due ho intenzione sul prossimo semestre che ci guiderà agli appuntamenti fino alla fine dell'anno di fare un focus preliminare, fare un focus diciamo più specifico. Oggi però ci andiamo a concentrare sulle etichette di tipo 1 quindi sulla certificazione Ecolabel. Allora qual è l'inquadramento o qual è stata diciamo l'evoluzione della certificazione? Ho deciso prima di riportarvi una panoramica sulla scia degli ultimi dati che sono stati diffusi a febbraio 2023. Ad oggi sono 414 le licenze Ecolabel in vigore in Italia e su un totale di 13.000 oltre prodotti e servizi distribuiti in 17 gruppi di prodotti. Qui vediamo, possiamo apprezzare l'andamento che c'è stato nell'evoluzione del rilascio di queste licenze. Sicuramente quello che possiamo notare è una flessione durante il periodo del Covid che insomma anche da questo punto di vista ha frenato questa battuta ecologica di certificazione dei prodotti. Per quanto riguarda il numero di licenze rilasciato per il settore di appartenenza, il gruppo di prodotti con maggior numero di licenze è sicuramente quello che vediamo in testa a questo istogramma che sono i servizi di pulizia di ambienti interni seguito da quello delle strutture recettive, tessuto carta e prodotti per la pulizia di superfici dure. Ora vi invito un attimo a memorizzare questo grafico perché ne daremo un'interpretazione anche in funzione di evoluzione dei mercati. Personalmente le prime volte che mi sono dibattuta su questo argomento mi sono chiesta come mai ci fosse appunto questa scesa particolare sui servizi di pulizia piuttosto che magari sul mobiglio che troviamo alla fine di questo grafico. Il servizio di pulizia ovviamente dopo le strutture recettive è appunto il comparto dove ritroviamo maggiori certificazioni Corabel. Questo non è un caso perché diciamo tra i vari requisiti che sono richiesti appunto nelle gare di appalto l'ecolabel rappresenta un elemento, una certificazione premiante e poi vedremo cosa vuol dire premiante. In questo modo diciamo con questa serie storica invece quindi lì il dato si portava in assoluto. Qui possiamo apprezzare l'evoluzione storica dell'istogramma possiamo notare come l'evoluzione sia stata particolarmente significativa a partire dal 2021. Il 2021 è stato proprio l'anno di emanazione dei CAM per i servizi della pulizia. CAM che sono dei criteri premianti che valutano appunto l'impatto ambientale che si riferisca diciamo alle fasi del Green Public Procurement e che quindi vanno a valutare e premiare una serie di caratteristiche che sono apprezzabili sia dai prodotti sia dai servizi e questo permette ovviamente alle aziende che hanno tali requisiti di essere premiate in fase di assegnazione della gara d'appalto. Nell'affidamento quindi dell'appalto tra diversi fornitori di pulizia il prezzo non diventa il principale elemento di differenzazione per l'attribuzione della gara. Fattori quali aspetti sociali e aspetti ambientali stanno divenendo sempre più importanti in ottica appunto di questo Green Public Procurement che approfondiremo eh vi anticipo già nell'ultima lezione eh di che in questa fase insomma poi ci guiderà all'interruzione per la fase estiva e mh e e in complesso appunto questi questi requisiti ehm incontrano un favore sull'assegnazione eh e sulla partecipazione delle gare di appalto ehm l'etichetta ehm eco label eh rappresenta o un'attestazione certificata dell'impegno da parte dell'azienda nei confronti della ehm della dell'impatto ambientale dei propri prodotti e quindi ehm oltre ehm oltre a questo apprezzamento ehm si si permette che queste questo tipo di etichette ehm siano eh iniziano ad essere riconosciute come un criterio preferenziale di assegnazione ehm ora mh quello che eh sul quale ci soffermeremo è è vero sì che è un requisito in questo caso che è entrato nella normazione e che è premiante ma come devo comunicare la mia certificazione attraverso l'obbligatorietà o attraverso i valori che mi hanno spinto e ispirato ad ottenere tale certificazione. Il marchio Ecolabel ehm è come abbiamo detto è una certificazione di natura volontaria e tutti tutte le aziende possono richiedere e devono presentare una eh una formale domanda di concessione della licenza d'uso eh all'organismo competente e mh nello svolgimento della propria attività ehm c'è eh il supporto tecnico di una sezione Ecolabel da parte di Ispra eh l'iter è piuttosto complesso ehm e dobbiamo chiederci appunto oltre a questa ehm a questa a questa a questa premazione appunto che si ha sulla sulla apertura di nuove possibilità di vendita quali in realtà siano i valori che hanno ispirato la mia certificazione. Questo perché molto spesso eh trovo nelle comunicazioni eh che riguardano i marchi Ecolabel eh come se ci fosse un claim ridondante sul sulla sul valore green ehm di una determinata azienda a partire appunto dalle Ecolabel. Sì è vero che è un momento di attenzione ma quello che in realtà deve ispirare e deve condurmi a tale certificazione oltre che all'apertura di nuove possibilità di vendita deve essere dapprima la cultura eh che mi ha ispirato di tale certificazione. Poi vedremo nello specifico cosa si intende eh questa cosa calata eh all'interno di una comunicazione di green marketing. Una panoramica geografica sempre questa riferita agli ultimi dati del 2023 la ripartizione delle licenze ehm diciamo ha una prevalenza eh sicuramente sul sul nord Italia con il 62,1 per cento seguono poi il centro Italia e il sud e le isole. Quattro licenze risultano attualmente rilasciate ad azienda con sede legale all'estero. Eh ulteriore focus sulla ripartizione geografica e vediamo come eh come c'è la diffusione sul sul ambito regionale e sicuramente ehm apprezziamo che eh le eh le regioni dove eh si ha un un alto impatto sul sul PIL eh siano quelle che hanno eh non a caso eh presentano magari questa questa certificazione. Anche qui è una correlazione non eh non diretta mh però mh insomma ci ci porta ad essere ispirati nel dire ciò. E inoltre qui c'è un'altra panoramica che riguarda sempre l'aspetto regionale e eh rispetto alle licenze rilasciate quelle che come sono distribuite per prodotti e per servizi. ehm e qui di nuovo eh notiamo come eh l'incidenza in alcune regioni sia particolarmente ehm sia particolarmente ehm sia particolarmente presente all'interno dei prodotti a parte due sezioni quella del Trentino e del Lazio dove eh ci sono eh licenze principalmente sul sul comparto servizi. Allora l'Ecolabel è il marchio della qualità ecologica dell'Unione Europea e contraddistingue come abbiamo abbiamo introdotto nella slide precedente sia prodotti sia servizi che ehm pur eh garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita. Eh l'Ecolabel è stato istituito nel 1992 eh con il regolamento numero 880 del 92 ed è disciplinato dal regolarmento CE. E la cosa mh interessante è che questa certificazione è riconosciuta in 28 paesi dell'Unione Europea e eh nei paesi appartenenti allo spazio economico europeo quindi Norvegia, Islanda e Lichtenessen. Ehm la cosa interessante è che già questa prima introduzione ci dice che eh i prodotti che hanno questa certificazione godono diciamo di una possibilità di ingresso in 28 paesi dell'Unione Europea quindi anche questo vuol dire avere una vision di apertura sui mercati. Eh non a caso in alcuni settori ehm parlo ad esempio quelli della manifattura si ha ehm forte difficoltà da parte delle aziende italiane nell'entrare nel mercato nord europeo. Una di questi una di queste considerazioni è sicuramente legate al allo sviluppo dei mercati nord europei che già da molto tempo hanno una sensibilità nei confronti della valutazione degli impatti ambientali. E non dico ovviamente che solo la certificazione Colaber potrebbe essere una porta eh su eh nuovi mercati di vendita. Però tuttavia potrebbe essere un'opportunità eh apprezzabile per diversificare ulteriormente i propri mercati anche all'interno eh dello scenario europeo. Con tutte poi eh le complicanze che ne possano scaturire ovvero eh avere la necessità di trovare un referente del mercato. Noi eh stiamo parlando in ottica strategica di quello che potrebbe eh rappresentare un'opportunità a fronte di una certificazione e anche di un investimento che viene fatto ovviamente dall'azienda. L'Ecolabel è una certificazione ecologica volontaria eh che si basa su criteri selettivi e ehm e quindi tenendo conto eh del del dell'impatto lungo l'intero ciclo di vita è sottoposto eh a una certificazione da parte eh di un ente indipendente e un organismo cosiddetto super partes. La prestazione ambientale è valutata su base scientifica analizzando in modo dettagliato tutti quelli che sono gli impatti significativi durante il ciclo di vita e tengono conto anche della durata eh della vita media dei prodotti e della loro riutilizzabilità, riciclabilità e della riduzione degli imballaggi e del contenuto del materiale riciclato. Quindi è una certificazione eh complessa eh da ottenere perché eh di fronte a questi requisiti che vengono richiesti probabilmente sarà necessario anche un processo di revisione magari dei fornitori o dei processi aziendali. Eh tutto questo per risottolineare che anche in questo caso evidenziamo come eh nei criteri ci sia la la durata della vita media quindi tutte le linee guida verso le quali stanno andando molte direttive europee come abbiamo visto nella precedente lezione che vi invito di nuovo eh per chi magari non l'avesse eseguita ad andare a recuperare abbiamo parlato della cosiddetta riduzione dell'obsolescenza programmata della della possibilità di conferire dei kit riparatori eh ecco di fronte all'apprezzamento appunto di tutto il processo di revisione che avviene dietro l'ecolabel ci fa capire quanto in realtà eh l'Unione Europea eh con questa certificazione e con le normative eh di riferimento dell'ultimo periodo dell'ultimo periodo insomma a partire dall'ultimo semestre sia andando proprio verso questa linea. Quindi potrebbe anche rappresentare un cosiddetto vantaggio competitivo nel pensare all'ecolabel prima di potenziali competitor o per anticipare la normativa definitiva dell'Unione Europea. Eh il marchio ecolabel anche diciamo nello scenario eh del del consumatore sicuramente dà una ehm dà un'evidenza eh del prodotto eh che rispetta alcuni standard eh prestazionali tutti quanti eh probabilmente visivamente siano sono in grado di riconoscerlo come marchio e mh perché si caratterizzano ehm a prescindere da quello che può essere la conoscenza del consumatore sugli aspetti tecnici del dell'ecolabel danno comunque quella eh quella affidabilità quella qualità ecologica percepita e mh e questo diciamo accade eh proprio perché è un marchio che eh ormai fa parte eh diciamo del del nostro scenario ehm di apprezzamento anche di informative di di quanto magari lo abbiamo visionato su alcuni prodotti che ci permette di riconoscerne e di apprezzarne la qualità. Oltretutto con eh tutto ciò che comporta in generale la certificazione che viene accreditata da un ente terzo ci dà quell'affidabilità che non sia un messaggio autoreferenziato da parte dell'azienda ma venga eh appunto eh certificato da un un terzo ente. Ehm e quindi il marchio ecolabel sostanzialmente consente alle aziende di acquistare una visibilità sul mercato anche nei confronti del B2C e eh di eh manifestare quello che è il proprio impegno a favore dell'ambiente. Ehm un'etichetta sicuramente affidabile e che ha come conseguenza di ehm di delineare quella che è la linea guida e la sua competitività sul mercato verde che è sempre in continua crescita. Ehm l'ecolabel garantisce all'azienda un accesso semplificato degli strumenti di sostenibilità ambientale come ad esempio quello del Green Public Procurement. Gli acquisti verdi eh della pubblica amministrazione ehm danno appunto delle agevolazioni o degli incentivi eh alla partecipazione da parte di prodotti o servizi che hanno questa certificazione sulle procedure di acquisto della pubblica amministrazione. La certificazione è volontaria e viene fatto sulla sulla sull'urgenza e sulla visione eh da parte dell'azienda di cogliere delle opportunità competitive. Ehm mai eh diciamo finora a seguito di obblighi che sono normativi. Ehm quello che abbiamo visto sul settore della pulizia è una kindly recommendation che sicuramente è stata eh colta da molte da molte aziende che sono andate appunto in tale direzione. E questo è quello che potrebbe verificarsi in settori magari dove abbiamo visto che questa mh questa certificazione è poco presente. Ehm ragion per cui eh in ottica di cambiamento e di percorso di avvicinamento alla sostenibilità eh in un'ottica strategica di green marketing quello che abbiamo visto nella prima matrice ovvero l'avvicinamento a nuovi standard verdi ehm ci eh consente di dire che sicuramente un'azienda che decide di intraprendere un percorso consapevole nei confronti della sostenibilità nei primi eh nei suoi primi passi eh è sicuramente bene affidarsi a partenari affidabili. Partenari affidabili in questo caso che eh appunto nel caso della eh della certificazione sono enti terzi che consentono all'azienda di far propri ehm dei valori che sono oggettivamente certificati e che sono messi a disposizione appunto delle delle strategie delle leve di green marketing eh per essere ehm opportunamente dichiarate appunto ai mercati. Alcune tipologie eh di certificazione sono direttamente utilizzabili sul prodotto ehm ma anche sull'imballaggio e altre in accompagnamento di asserzioni anche pubblicitarie. Ehm facciamo un passo successivo ehm per ehm andare a vedere anzitutto eh dove eh possiamo fare un'analisi eh magari dei nostri competitor o di come stanno evolvendo eh le sorti di alcuni settori. Esiste un registro eh che ehm contiene tutti i prodotti e servizi che sono certificati Ecolabel quindi in una fase preliminare di analisi come abbiamo detto sul mercato eh a fronte di quella che è la normativa a quella che può essere la compliance quindi la conformità normativa dei prodotti mh possiamo anche andare a apprezzare l'evoluzione che c'è sul mercato eh perché questi mh questi criteri come abbiamo detto potrebbero eh rappresentare un vantaggio competitivo nel medio lungo termine. Ehm e quindi un criterio di selettività eh sul mercato. Ehm e qui vi ho lasciato appunto dei link attraverso i quali è possibile andare a recuperare eh queste certificazioni. Ehm poi cosa cosa accade eh se eh un'azienda eh produttrice appunto vuole ehm vuole eh certificarsi da questo punto di vista ehm oltre ad apprezzare i valori eh che ci sono eh che l'hanno condotta eh sia a un vantaggio di natura commerciale perché questo l'abbiamo sempre detto no? L'avvicinamento alla sostenibilità comunque deve essere sempre in un'ottica win-win no? Non che qualcosa si stia perdendo ma come cogliere dal da un problema un'opportunità. Un'opportunità in termini di risultati commerciali, ambientali e culturali. Quindi l'adozione di una certificazione Ecolabel non deve far fermare eh l'azienda a quello schema di certificazione di tipo uno Ecolabel ma anzi a fronte magari di un percorso iniziato eh in modo eh anticipato rispetto alla concorrenza dove dovessero introdursi anche ulteriori aziende sul settore ci porta la definizione del cosiddetto approccio con frontiera mobile ovvero dove i criteri che sono stati utilizzati per il rilascio del marchio vengono periodicamente revisionati e resi progressivamente più restrittivi proprio da essere ancora più competitivi su una data certificazione e in modo di favorire sia il miglioramento continuo della qualità ambientale sia di favorire eh diciamo il proprio apprezzamento rispetto al mercato di riferimento perché laddove ad esempio ci fosse l'ingresso di un competitor si è già ad una qualità superiore sullo standard eh sullo standard che è stato da prima dichiarato. Quindi ricordiamoci anche frontiera mobile eh valori e ehm cultura eh della certificazione che si introduce in azienda. Qui ho cercato di eh semplificare banalmente con un'analisi svuot eh che ci permette di avere eh quelli che sono i in modo in modo visivo tutti quelli che sono i punti di forza, punti di debolezza, le opportunità, le minacce. Allora senza andare diciamo nella nella spiegazione della svuot però ehm vi ricordo che diciamo i primi i primi due punti quindi punti di forza e punti di debolezza sono quelli che dipendono dall'analisi interna eh quindi tutto ciò che riguarda il contesto interno dell'azienda. Opportunità e minacce invece riguardano l'ambiente esterno. Allora i punti di forza sicuramente di una certificazione colabel sono quelli di ehm certificare una qualità eh maggiore dei propri prodotti e di andare a supportare quello che è l'impegno ambientale nei confronti della comunicazione ma ehm nei confronti di di tutto lo stakeholder engagement perché mh la certificazione colabile è anche tra i criteri che vengono apprezzati nel sistema eh di finanza che sappiamo essere sempre più vicina ehm ai criteri ESG. Come abbiamo ricordato spesso non è più eh la proprietà di un capannone eh nel vecchio sistema eh di finanza e quindi dell'ipoteca a concederci ehm magari la benevolenza del rilascio di un investimento ma eh vengono valutati fortunatamente eh sempre più quelli che sono le gli aspetti ESG quindi gli aspetti di investimento in in funzione di creazione di valore eh per le future generazioni. E poi e tra i punti di debolezza possiamo riscontrare nel contesto interno sicuramente un un una crescita di costi perché ovviamente è un investimento e eh nel breve termine accompagna sicuramente a quelli che sono eh a quello che è la crescita di un costo di esercizio. Anche qui possiamo potremmo fare un'analisi eh di natura eh più economica nel senso che eh le licenze eh sappiamo bene poi che eh in un'ottica di rendicontazione ehm non entrano direttamente eh sul sul conto economico ma eh possono rientrare anche sullo stato patrimoniale quindi eh rientrano anche in cosiddetti costi ammortizzabili. E poi abbiamo ehm tra i punti di debolezza è quello che riscontriamo eh soprattutto eh nelle tematiche green ehm la mancanza di formazione e di competenze ehm all'interno dell'azienda che possano favorire insomma questo processo di avvicinamento in questo caso una certificazione. Ehm per questo diciamo ehm ci si affida eh giustamente spesso di testerni che diventano eh comunque dei dei consulenti, dei battitori eh insieme all'azienda perché bisogna scendere molto nel profondo del prodotto. Quindi di nuovo la scelta di partenere affidabili per la certificazione perché si entra molto nel nel design industriale nella ehm nell'intimo insomma della della competitività dell'impresa. Ehm e quindi di nuovo eh questa eh questa questa piccola eh segnalazione partner affidabili è quello che ehm insomma buon creante eh ci eh ricorda insomma nella sua dinamica di strategie di avvicinamento alla sostenibilità. Poi abbiamo le opportunità. Quali sono le opportunità che possono aggiungere da una certificazione eh rispetto all'ambiente esterno? Sicuramente quello l'accesso ai nuovi mercati. Eh la riconoscibilità della certificazione all'interno di ventitré paesi dell'Unione europea non è una una cosa da poco in termini di potenziale eh che può esprimere un prodotto e eh sul contesto invece della concorrenza ci permette appunto la cosiddetta differenziazione differenziazione della concorrenza e non fatta su argomentazioni di natura banale ecco solo sul design sull'andare a valutare effettivamente quello che è eh l'impatto del prodotto eh in termini ambientali quindi apprezzabile sicuramente sia nel mercato B2B sia nel mercato B2C. Infine eh quale potrebbero essere le minacce? Minacce che eh provengono dall'ambiente esterno. Mh allora sicuramente eh la disciplina eh normativa è in completa evoluzione quindi ci sono ci saranno ovviamente rispetto a tutta la normazione eh che è in corso da parte dell'Unione europea dei possibili cambiamenti normativi. Questo ovviamente non non pregiudica eh la valenza o eh l'investimento ehm è un modo eh di operare che sicuramente ci porterà ehm ad essere più flessibili quindi a non vedere nemmeno questo problema del del cambiamento normativo come un problema puro ma come un'opportunità iniziare a lavorare in un'ottica flessibile sicuramente ci permetterà di cambiare il modo di lavorare anche all'interno del contesto aziendale quindi di essere anche più veloci e reattivi al cambiamento. Dall'altro potrebbe essere quello che abbiamo detto della frontiera mobile quindi ehm dal momento che il contesto normativo magari diventa più stringente la eh nel settore potrebbero eh introdursi anche aziende competitor e quindi ehm il valore della concorrenza diciamo deve comunque tendere sempre in quell'ottica di eh cercare la cosiddetta frontiera mobile quindi ehm potrebbe esserci qualcuno magari che è in grado di spostare quella frontiera in modo più veloce rispetto a noi ma anche qui lo il problema cerchiamo di vederlo in ottica di ehm in ottica di opportunità dal momento che c'è l'ingresso eh di un competitor spostare quella frontiera mobile magari prima del del mio competitor diretto. Quindi cosa comunicare a fronte di una certificazione Ecolabel? Bisogna ehm non solo eh sbandierare il marchio in ogni dove ma eh bisogna dare prima di tutto autorevolezza al messaggio e quindi come do autorevolezza al messaggio? Valorizzando la credibilità in primis del soggetto istituzionale che rilascia il marchio. Quindi puntando alla terziarità cioè non non facendo dei claim autoreferenziati cioè diamo importanza al soggetto terzo che è quello poi in qualche modo che abbiamo anche ehm finanziato tra virgolette no? E quindi eh dobbiamo essere i primi a credere nel nostro partner. Di nuovo la scelta del partner affidabile. Eh in questo modo il messaggio sarà più efficace perché non sarà autoreferenziato e si darà eh respiro alla terza parte che dà un giudizio appunto su di noi no? Anche qui vi ricordo quello che abbiamo detto qualche lezione fa eh ma non perché dobbiamo dobbiamo tornare indietro ma per 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 capire che c'è un filo logico in tutto ciò che diciamo eh le persone che lavorano affianco a noi abbiamo fatto quella quella sorta di parallelismo anche di natura personale le persone che decidiamo di frequentare sono quelle che raccontano di noi meglio di quanto noi non riusciamo a fare di noi stessi. E quindi terza parte ehm poi fare riferimento ai meccanismi che ci sono di rigorosa verifica perché è un procedimento davvero molto complesso che richiede delle fasi di audit molto lunghe. Quindi piuttosto che eh arrivare alla definizione e alla sbandirazione del marchio cerchiamo di fare riferimento alla ehm alla rigorosa al rigoroso processo che c'è stato interno cioè di dare anche eh credito a quello che è il controllo periodico che viene fatto rispetto a questi criteri. È inutile ehm comunicare soltanto il marchio se non ne apprezziamo quello che è il valore che ne scaturisce e quindi che quel marchio sia lì perché procediamo a fare delle verifiche procediamo a fare dei controlli periodici e quello che dà valore al marchio non il marchio di per sé. Eh fare leva sul fatto che il marchio è riconosciuto come una garanzia di eccellenza ambientale e eh e soprattutto sul fatto che eh è apprezzabile non soltanto magari nel proprio settore di riferimento ma dando dando magari delle linee guida rispetto a quelle che sono le categorie di prodotto. Ehm e poi accompagnare il marchio con una sintetica illustrazione dei motivi per il quale è stato rilasciato sul prodotto servizi in questione. Ad esempio questo prodotto tenuto il marchio di eccellenza ambientale perché consente un notevole risparmio idrico e una minimizzazione delle emissioni dei gas ed effetto serra. Cioè comunicare il marchio Ecolabel senza darle eh un minimo di apprezzamento su quello che è il processo eh appunto come abbiamo detto di verifica o sulla scia di quali caratteristiche è stato concesso ha poco senso. Eh arricchire il marchio con delle indicazioni che sono rivolte al cliente al consumatore per spiegarne il corretto uso eh rispetto al contesto di riferimento. Questo eh lo trovo mh una leva molto importante eh perché ehm si realizza quello che è il vantaggio ambientale che è garantito dal marchio stesso e si va a fare la cosiddetta cultura sul consumatore eh il consumatore che una volta che viene istruito rispetto al corretto utilizzo del prodotto o su quella che è la leva culturale del vantaggio ambientale che ne comporta ehm c'è un una fidelizzazione anche maggiore rispetto all'uso di di quel determinato prodotto perché gli si sta dando una chiave eh di eh uso ok e quindi eh c'è quel risultato che non è solo più commerciale ma è è un risultato di natura culturale e il il consumatore che insieme a noi diventa una sorta di prosumer no? Ehm laddove è previsti eh bisogna evidenziale che il prodotto il prodotto è mh ha superato anche dei test eh che vincolano eh l'accesso al marchio ecologico quindi si assicura in questo modo eh quell'iter che è comparabile e che banalmente non si limita all'esposizione del del cosiddetto marchio. Come tutte le certificazioni e come tutti i marchi di terzi eh esistono dei manuali di uso del marchio eh questo lo dico mh e l'ho riportato perché ehm a parte che è una un manuale d'uso che ehm tutti quanti possiamo in scaricare e e prenderne atto ma eh vi invito anche magari andare a vedere eh in alcuni casi che eh di fronte a questo sforzo che viene fatto anche economico sull'utilizzo sull'acquisizione di questa di questa certificazione ne venga fatto anche un uso scorretto sulle varie eh sui vari dispositivi eh nei quali è apprezzabile quindi mh diciamo cerchiamo anche di ehm di capire come va comunicato anche a livello grafico visivo eh non è possibile farne delle alterazioni c'è sempre la necessità di doverne riportare la licenza ehm e anche eh eventualmente darne atto sulla sulla scadenza di dare la licenza non è possibile utilizzare una versione precedente del logo non è possibile eh avere una trasparenza sul fondo quindi deve essere apprezzato sul bianco poi eh che non ci piaccia perché eh ha l'impressione di essere un bollino poco conta eh perché appunto eh l'uso corretto come ci dì come come ci dà appunto il manuale e e quello sulla parte alta dove individuiamo la parte corretta che ha sfondo appunto bianco ehm inutile dire che lo stile non può essere modificato non possono essere associati al luogo o altre eh altri luoghi stessi o o comunque eh ho visto anche queste associazioni ecolabel con marchi che vengono eh inventati del cam il cam non ha eh dei marchi quindi mettere il cam vicino all'ecolabel eh oggettivamente dal punto di vista eh tecnico tecnico di green marketing è scorretto eh anzi sarebbe un'associazione che va sulla scia del greenwashing eh del cosiddetto green labelling quindi eh utilizzare il logo nella sostanzialmente nella nella sua purezza ci sono anche delle dimensioni minime eh nel quale deve essere esposto qui sotto vi ho vi ho illustrato che non può essere utilizzata la precedente la precedente versione e insomma per chi vorrà dopo approfondirne ehm sono aspetti che comunque vanno vanno curati e come dico sempre non vanno affidati eh banalmente eh all'agenzia di comunicazione che magari eh non riesce o non ha ehm all'interno quelle skill sul green marketing che poi rischiano di fare di una una cosa virtuosa qualcosa per cui si possa essere tacciate di greenwashing. Eh un altro aspetto che volevo sottolinearvi in ottica diciamo anche di commercio digitale sappiamo che l'e-commerce è esploso negli ultimi dieci anni e con la pandemia abbiamo avuto una digitalizzazione sostenuta di molte vendite e eh l'esposizione del macchieco label inizia a essere favorito eh anche su molte piattaforme di marketplace ehm nello specifico all'interno del programma di Amazon ehm è stata data una ehm come posso dire anche in questo caso una un favore su tutti quelli che sono i prodotti eh che eh hanno appunto eh ottenuto tale certificazione il climate plan friendly ma iniziamo ad apprezzare ehm questo stesso questo stesso tipo di eh competitività anche sul commercio elettronico anche su altre piattaforme come abbiamo detto su quelle eh su quelle di natura turistica dove abbiamo visto che è il secondo settore dove è molto presente l'ecolabel quindi ehm avere television vuol dire anche eh considerare nel caso in cui il prodotto sia presente non soltanto al nostro all'interno magari del del commercio digitale elettronico di proprietà ehm che all'interno di eh marketplace ehm inizia a essere anche lì un un momento di vantaggio competitivo eh ovviamente eh in questo caso parliamo di ehm contenuti organici non non sponsorizziamo eh per fare degli esempi eh pratici eh ho riportato eh quello che è stato appunto quelli che sono stati appunto i premi ecolabel ehm che sono stati segnati nel nel 2022 in occasione dei trent'anni ehm e qui diciamo eh è interessante andare a notare come eh nei criteri che sono stati premianti appunto da parte del di coloro appunto che hanno eh che hanno assegnato appunto rilevanza alle aziende vincitrici che non ci sia solo la motivazione della certificazione di per sé ehm l'aspetto culturale eh quello di cui abbiamo parlato all'inizio eh è importante anche per avere all'interno del contesto di tutte le aziende certificate vantaggio competitivo maggiore cioè banalmente in questo caso i premi non sono stati assegnati a coloro che hanno eh avuto la certificazione bassa ma coloro che hanno saputo sfruttare eh dal punto di vista della certificazione anche delle leve eh competitive diverse. Andiamo a vedere quelle che sono state le aziende premiate eh in questo caso ehm tra le motivazioni viene dato che ehm l'azienda Sutter ehm è un'azienda di fama internazionale con maggior numero di prodotti detergenti certificati ecolabel. La confezione è beck in box formato da dieci litri per i prodotti ultra concentrati salvaguarda l'ambiente anche nel packaging unico beck in box e mh e poi vabbè si dà alti si danno appunto altre motivazioni tra quali quelli contenenti appunto la politica aziendale per la qualità l'ambiente la sicurezza sul lavoro la responsabilità sociale affermando la trasparenza nei confronti dei clienti. Eh sempre tra le aziende premiate che vediamo appunto che vediamo appunto nel contesto della detergenza dal 2017 le motivazioni sempre che vengono date dall'organo eh dal 2017 l'azienda ha creato due linee di detergenti verde eco per il mondo B2C eh per la linea logico eco destinata agli scaffali della GDO si è lavorato molto sul marketing di prodotto migliorando la grafica esistente ecco quindi migliorando il processo di trasparenza ma anche di educazione al consumatore ovvero non cercare di non di non alterare il comportamento di acquisto ma di eh premiare la trasparenza e in questo caso appunto si entra appunto tra quelle aziende premiate addirittura da Colabel. Importante per la campagna promozionale è anche un'adeguata formazione dei distributori e la vetrofania per informare i clienti che vengono usati i prodotti detergenti certificati. In questo caso sempre eh nel contesto dell'azienda sempre nel contesto della della detergenza eh si distingue per la costanza della promozione del marchio attraverso campagne di iniziative di comunicazione che hanno trasmesso nel tempo un messaggio di sostenibilità verificata, reale e certa. Le campagne di promozione delle linee di detergenti e cosmetici per l'uso professionale e industriale hanno provisto spazi dedicati alla comunicazione esterna sull'importanza del marchio Colabel sia sui canali social che in manifestazioni culturali, mostre e musei. Infine la pubblicazione del primo bilancio di sostenibilità ha dimostrato trasparenza nei confronti di tutti i suoi interlocutori rispetto ai temi di tutela ambientale, sostenibilità sociale e valori etici. Ecco di nuovo ehm la coerenza, la trasparenza ehm e soprattutto la ehm l'ingresso in quel in quel sistema di corporate social responsibility ovvero che ehm non si limita soltanto alla votazione dell'impatto ambientale ma entra in un contesto più complesso sia sul dal punto di vista social sia dal punto di vista ehm etico sia dal punto di vista culturale. Eh di nuovo tra le motivazioni eh certificata dal 2009 per i primi prodotti tessili Ecolabel del cleaning professionale, oggi vanta quasi 200 articoli tessili, lo scherzo anno l'azienda ha vinto il premio Ecolabel per la migliore innovazione progettuale con i primi carrelli per le pulizie professionali. Si premia in particolar modo la visibilità data sul sito aziendale ai prodotti certificati e la significatività delle attività promozionali condotte. Quindi in questo caso quel quel richiamo che abbiamo fatto anche al commercio di natura digitale. Ognuno ovviamente ehm cala ehm il le opportunità quello che abbiamo visto sulla SWOT eh in ottica di analisi di mercato eh quindi ciascuno trova la sua leva strategica eh che funziona per l'interlocutore o lo stakeholder eh di riferimento. Che attenzione non è sempre detto che sia eh necessariamente solo eh oggettivamente il mercato eh perché potrebbe essere anche il volano per un accesso magari a una linea di investimento nuova su una linea di prodotti. Eh infine eh anche una piccola azienda del riconoscimento a questa microimpresa per la quanti per la quantità e la creatività delle azioni promozionali con le quali l'azienda sta facendo crescere in Marche Colabel. Nel duemilaventuno ha creato la linea di detergenti a basso impatto che ha successivamente proposto con eventi sul territorio ma anche tramite idee innovative quali la posizione del marchio su bolle e fatture di prodotto. Ecco altra cosa eh spesso eh che magari si sottovaluta è di fronte al fatto che ehm girano ad esempio tantissime mail no? Eh i nostri commerciali o tutto quello che magari può essere il comparto amministrativo ehm perché non pensare ad inserire il logo delle Colabel banalmente nel blocchetto della firma che è un primo eh è un primo momento di contatto rispetto all'interlocutore di riferimento cioè è sicuramente un qualcosa che amplifica o può amplificare il messaggio eh di questa certificazione o comunque darne menzione no? Eh colpisce eh la dinamicità di un'azienda che pur così piccola sta investendo tantissimo sul marchio Colabel. Ehm di nuovo questa 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 impresa una grande impresa che ha intrapreso significativamente azione volta alla diffusione, promozione ed illustrazione del marchio Colabel come sviluppo di partnership legata alla sostenibilità delle attività della divisione certificata. La creazione di una pagina web dedicata ad Ecolabel in cui soprattutto si illustra in cosa consiste il marchio, da dove deriva, quali ne sono i requisiti e ne riscrive i grandi vantaggi. Una campagna di comunicazione social con numerosi posti su LinkedIn e su Facebook. Si nota inoltre la pubblicazione del bilancio sociale come strumento atto a comunicare l'importanza del marchio Colabel e del servizio che eroga tramite tutti coloro che desiderano interfacciarsi con l'azienda. Anche in questo caso eh diciamo si entra sicuramente poi sono andata a studiare un attimo meglio questi casi. Vi dico che ehm da questo punto di vista per questo tipo di aziende si si va già sull'ottica eh delle cosiddette tribù verdi eh ovvero dove ehm si è in grado già di avere quello quello spettro, quello scenario sulla supply chain ehm nel quale si lavora con partner che altrettanto eh garantiscono gli stessi standard che sono eh riconosciuti all'interno dell'azienda. Quindi si va già in questo caso in un'ottica eh più complessa per coloro che eh magari si avvicinano oggi alla certificazione. Ehm è sicuramente è prezzabile andare a vedere questo case study perché ehm si nota come ehm il valore inteso eh sulla certificazione sia effettivamente eh permeato all'interno della cultura aziendale. Poi esistono invece eh queste ultime due aziende che abbiamo visto sono state premiate sulla sull'aspetto dei servizi eh e quindi anche in questo caso eh tra le motivazioni rispetto a un servizio che da Ecolabel ha intrapreso attività rivolta alla diffusione del marchio Ecolabel eh come la pubblicazione di un video sulla pagina Facebook e Instagram per celebrare l'ottine l'ottenimento del marchio Ecolabel rilanciato su tutti gli altri canali aziendali del marchio. La presentazione della certificazione all'interno di progetti atti alla partecipazione a bandi di gara sia pubblici che privati. La certificazione è stata pubblicizzata nel company profile e un documento di presentazione del appunto di dell'impresa viene diffuso a tutti i clienti presenti e futuri. Ovviamente come dico sempre non esiste la la ricetta perfetta calabile in ciascuna azienda cioè dobbiamo ovviamente andare a vedere quello che è il nostro pubblico di riferimento ma sicuramente banalmente in tutti gli strumenti di diffusione la eh la menzione del marchio è inutile dirlo che deve esserci. Poi come deve esserci ehm è meglio se sia eh calata e validata rispetto eh ai valori che rappresenta come abbiamo detto prima quindi non lasciare banalmente un marchio su un sito web o eh su un company profile che decontestualizzati dal processo che hanno accompagnato la certificazione eh perdono perdono senso se eh il nostro interlocutore eh non ha eh conoscenza eh del marchio o di ciò che ne accompagna. Quindi eh qual è mh per esprimerci diciamo di fronte a questa etichetta che è sicuramente è simbolo di eccellenza dal punto di vista eh della valutazione dell'impatto ambientale. Anzitutto è che non dobbiamo scordarci che eh la sostenibilità ehm di fronte anche a una certificazione di natura ambientale non esclude tutti gli altri due pilastri ehm della sostenibilità. Quindi l'aspetto di governance e l'aspetto sociale. E l'approccio positivo delle certificazioni è sicuramente di andare a cercare a creare una scelta laddove non esisteva. Cioè mh l'elemento ehm è sicuramente positivo e apprezzabile laddove si fa maggiore cultura sul mercato di riferimento sia SOB2B sia SOB2C. Eh e quindi non deve essere soltanto un vantaggio di natura normativo. Dobbiamo farlo nostro in qualche modo all'interno dell'azienda. E visto diciamo in un'ottica eh esterna ehm se eh su 100 prodotti ne acquistiamo 10 certificati l'acquisto potrebbe essere percepito come eh virtuoso rispetto ad un aspetto. Però eh potremmo tralasciare ehm l'impatto che riguarda gli altri 90 prodotti che non che non abbiamo scelto. O anche magari andare a approfondire le altre leve della sostenibilità. Quindi eh in questo dico che la frontiera eh deve essere sempre dinamica. La la sostenibilità eh non è qualcosa eh che possiamo categorizzare e mettere a comparti stagni ehm soltanto all'interno di una certificazione o di un documento. Eh dobbiamo renderlo eh credibile eh ma perché entra a far a far parte insomma del del nostro del nostro valore. Eh e diventa una frontiera dinamica nel quale più si lavora eh in un contesto appunto eh flessibile in evoluzione e più si acquisisce quella capacità di avere eh rispondenza maggiore eh sui contesti di appartenenza. Strategia sempre eh a monte e a valle. Quindi mh cosa fare prima di un percorso di avvicinamento? Eh pensare eh banalmente eh in modo eh in modo profondo alla nostra azienda. Quindi pensando a quella che è l'analisi del mercato, raccogliere le informazioni di riferimento al contesto, valutarne tutte quelle che sono le leve no? Di un'analisi SWOT che riguardano che che possono riguardare eh l'ottenimento in questo caso di una certificazione ma in generale di qualunque eh di qualunque processo che possa rappresentare un cambiamento e un'opportunità sui contesti dei mercati. Eh andare ad identificare dei valori o degli obiettivi aziendali e quindi cercando di eh andarli a trasferire, a integrarli in tutte le strategie ehm di marketing ma anche di cultura di cultura aziendale perché poi il marketing fa il green marketing fa anche questo cioè fa anche leva sulla cultura aziendale. Si definisce qual è il nostro pubblico target che non è soltanto eh il pubblico esterno eh ma anche il pubblico interno perché ottenere una certificazione colabel ehm è un momento di condivisione importante che deve essere fatto anche all'interno dell'azienda cioè non basta ottenerlo soltanto per il mercato esterno. Eh sicuramente si crea si può creare una forte adesione eh rendendo i dipendenti partecipi dell'ottenimento di un di un marco di eccellenza come questo. Eh e poi tutto ciò che viene trasferito a livello di cultura è un messaggio che si amplifica con la la prima leva di marketing che comunque resta con quel passaparola. Eh quindi poi si vanno a definire quelle che sono le performance sostenibili. Questo ovviamente parlo in ottica di strategia di marketing non sul 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 processo che guida eh all'ottenimento della certificazione. Si crea un'offerta sostenibile una un'offerta di prodotti e di servizi e tutto il materiale di comunicazione che può efficacemente esprimere il valore della certificazione. Si scelgono i canali eh si implementa la strategia e si dà coinvolgimento di tutti gli attori eh del 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 messaggio. Eh in ottica appunto per quello che abbiamo detto che la strategia non si limita della sostenibilità ad essere un claim verso l'esterno ma deve essere come prima cosa un name interno. E poi alla fine si va ehm si va di fronte a in questo caso se se lo contestualizziamo rispetto alla certificazione si va a misurare l'impatto. Cioè qual è il risultato in termini economici, ambientali e sociali eh e quali vantaggi si sono ottenuti rispetto appunto ad uno sforzo eh sull'ottenimento della certificazione.